ciao amici sono giordano berti e sono qui alla libreria esotericamente di torino assieme al caro amico andrea pasino e gli sto per consegnare un autentico gioiello grazie alla sua insistenza davvero solo tre anni che insiste per realizzare quest'opera i tarocchi di papus finalmente a colori in una gestione maestosa guarda un po dimmi cosa ne pensi io li ho già sbirciati erano anni che non li tenevo più fra le mani e sono veramente è un'emozione poterli tenere finalmente di nuovo fra le mani fatti proprio bene bene sono contento di aver insistito comunque dopo 110 anni tornano alla luce come meritano e faremo una conferenza di presentazione qui alla libreria esotericamente e intanto godetevi queste immagini ciao amici ciao grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.